Buone giornate, sesta puntata della nostra piccola scuola dei desideri. Finalmente si entra nella parte operativa, nella tecnica vera e propria. Che cos'è una tecnica dei desideri? Secondo me è un buon modo per superare i propri traumi, cioè quelle brutte esperienze, quelle sconfitte che hanno inciso sulla tua personalità e hanno rimpicciolito ulteriormente il tuo attrattore. La psicologia si occupa di superare i traumi. La psicologia tradizionale come fa? Dunque, innanzitutto ti fa ricordare il trauma, il che non è sempre facile perché sono esperienze talmente brutte che uno preferisce non ricordarle, però se non le ricorda agiscono in segreto sulle tue scelte e solo sulla tua volontà di vivere. La psicologia prima te li fa ricordare e poi te li fa superare almeno prova. Noi faremo il contrario esatto. In una tecnica dei desideri, prima superi i traumi e poi te li ricordi. Superi l'ostacolo e poi ti volti a guardare quanto era grande l'ostacolo e perché fino a quel momento non eri riuscito ad affrontarlo. Questa è una prima differenza. Poi c'è un'altra differenza della psicologia tradizionale. La psicologia tradizionale, per affrontare i traumi, usa lo strumento del dolore, cioè te li fa rivivere. È un'esperienza brutta, molto brutta, che però è assistita dal terapeuta, dal tuo analista. Tu li affronti, è una cosa che viene naturalmente dalla religione, cioè qui la psicologia tradizionale procede parallelamente alla religione. La religione si occupa di farti superare i peccati, devi fare l'atto di dolore, devi fare la penitenza e la psicologia ha elaborato un suo metodo non per i peccati, o diciamo non soltanto per i peccati, ma per i traumi. Ecco, noi non useremo invece, nella tecnica dei desideri, non useremo il dolore. Noi useremo il contrario esatto, useremo il piacere. Eros. Eros. È un'idea molto più antica del cristianesimo. Ne parla già Socrate. Socrate diceva Eros è il dio del piacere. Sì, sì, ma non solo. È anche il dio del progresso in agricoltura, del progresso nella medicina. È il dio del progresso e della filosofia. E tutto quanto cresce attraverso Eros. Cioè attraverso la capacità delle persone di provare sempre maggiore piacere e naturalmente di scoprire quello che a loro piace. Questo lo diceva Socrate. Aristotele, anche lui parla dello stesso argomento, poco dopo Socrate, e dice Dio, spesso Aristotele parla di Dio al singolare, anche se era greco, Dio fa evolvere l'umanità attraverso due forze. Eros e Logos. Attraverso il piacere e attraverso, beh, Logos vuol dire sia ragione sia parola sia lavoro intellettuale. Noi li faremo tutti e due. Noi li faremo tutti e due. Avremo ragione Aristotele. Il piacere e il lavoro intellettuale. Poi un altro che ne parla agli stessi termini è Gesù nei Vangeli. I Vangeli sono molto influenzati dalla filosofia greca. E anche Gesù nei Vangeli, a differenza di quello che ci raccontano le religioni. Non è che chiede sofferenza. Al contrario. Gesù nei Vangeli chiede che tu chieda. Chiedi e ti sarà dato. Lo dice lui. Insiste, insiste, insiste. Naturalmente non che tu chieda quello che ti fa sforzarti, quello che ti fa faticare, quello che ti fa disperare e patire. No, no, no. Che tu chieda quello che ti piace. Lo dice. Ne parleremo. Soprattutto nel Vangeli di Giovanni. Ecco, noi allora useremo il piacere per superare i traumi. Questa è la prima cosa da sapere sulla tecnica dei desideri. Per la prossima volta mi piacerebbe che voi preparaste dieci desideri sul vostro quaderno, su un pezzo di carta, se non avete ancora il quaderno. Dieci desideri. Dieci cose che ti piacerebbe avere, fare, vedere, oppure sapere, oppure dire. Poi riascoltatelo questo elenco. Se vi mancano le idee, riascoltate questo elenco e sono delle linee guida. Cosa mi piacerebbe avere? Cosa mi piacerebbe fare per me o per altri? Ecco, oggettivi questa tua scelta e scrivi desiderio. Poi noi lo esaminiamo insieme. Vediamo se è un desiderio già perfetto o se si può perfezionare. Tra tre giorni circa ci si rivede. A proposito, mancheranno cinque o sei giorni all'inizio di quel corso segreto, quello che va a indagare nella Kabbalah sia ebraica sia cristiana, per vedere cosa c'è dietro i desideri. Vi ho già detto che c'è un biglietto d'ingresso da pagare. C'è un biglietto d'ingresso, 3 euro più IVA. A tra poco, a tra tre giorni.